vai avanti Marco vai avanti tu no tu vai avanti lui sta in mezzo io filmo tutte e due vai ma dove dobbiamo andare vai giù fino in fondo ok Grazie a tutti. Grazie. 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 Se cambia la moto dopo non si siede più Grazie. 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 Sposto? Sposto. Eh ragazzi partire così. Spagnato.